Premio Nobel 2018 per la letteratura Paolga Tokarsuk, invece quello del 2019 a Peter Hanke. Insomma, a una scrittrice polacca, quello del 2018, dare Olga, ripeto, per la sua immaginazione narrativa che con gran passione a livello incelopedico ha rappresentato l'andare al di là dei confini come forma di vita. L'autrice polacca più nota in Padre e ovviamente in Polonia, innissita di diversi premi letterari, tra cui il riconoscimento letterario del 2015, il più importante della Polonia, che si chiama Nikke Unaik, Nikke Reader's Prize. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e al prossimo video del vostro reato.